E adesso la parola a Sandra Ferracuti e Pietro Clemente per il loro intervento. Comincio io un po' un indice di... Penso che se Sandra sarà d'accordo faremo un libro da queste notte che abbiamo steso e chiederemo a Alessandra Borfolini di fare il terzo capitolo perché insomma diciamo che il problema è quello, l'antropologia italiana è l'UNESCO e su questo diciamo c'è un'esperienza storica da non buttare via, un'esperienza nuova istituzionale che stiamo facendo da reinterpretare. La chiave che io propongo è cambiarci come antropologi ma anche cambiare l'UNESCO perché ci troviamo in una serie di ambiguità, di complessità, di paradossi, di contraddizioni alcuni dei quali li dobbiamo sopportare per forza trattandosi di uno scenario internazionale e normativo che non possiamo cambiare totalmente però dobbiamo anche diciamo così con questo atteggiamento amichevole verso la collaborazione nella prospettiva UNESCO diciamo stabilire le regole perché noi possiamo portare la nostra esperienza dentro l'universo dell'UNESCO perché di fatto nello scenario UNESCO ormai si parla degli elementi non come se fossero forme di vita ma come se fossero pacchetti che si possono comprare al supermercato e a noi antropologi ripugna che uno dica l'opera dei pupi come se fosse una cosa che sa già che cavolo è non sa un tubo di che cos'è, deve leggersi la letteratura, deve andare sul posto, deve capire come la vede il pubblico e quindi dobbiamo cercare di intervenire con il nostro senso dell'alterità perché l'alterità è una scommessa e un abisso se noi pensiamo che le cantatrici bulgare, che il compagnonage francese sono delle liste di un vocabolario proprio stiamo sbagliando mondo insomma che diavolo ce ne facciamo di questo e io sento che manca moltissimo l'esperienza degli antropologi in questo scenario perché per noi antropologi l'alterità è un'altra cosa, non è una cosa che viene battezzata, riconosciuta poi messa in un cassetto e poi ritirata fuori e l'esperienza internazionale positiva di riconoscimento della differenza delle culture nasce se noi pensiamo che l'alterità è un abisso da sfidare non che è una cosa uguale per tutti perché noi stiamo riconoscendo cose che i tenore sardi non hanno la minima idea di riconoscere il compagnonage o il modo di cantare delle bulgare stiamo creando uno scenario dell'alterità internazionale che vorrebbe sostituire le ragioni degli stati ma senza avere la consapevolezza di come è profondo e difficile questo tipo di esperienza allora per farlo a me pare importante da un lato comparare le legislazioni perché per me è stato interessante moltissimo ieri vedere Brasile, Giappone e dove siamo noi perché dove siamo noi dal punto di vista della legislazione siamo molto indietro dal punto di vista della presenza degli antropologi nello scenario istituzionale siamo pressoché a zero ma dal punto di vista dell'esperienza storica non è così e allora noi dobbiamo fare uno sforzo per questo dicevo un libro per restituire all'esperienza che stiamo facendo adesso in contesto UNESCO quel tipo di esperienza che abbiamo prodotto nel tempo e che uno può dire i beni immateriali li ha inventati Niccolò Tomaseo quando è andato sulla montagna pistoiese sulla betone ha incontrato una pastora che cantava poesie in ottava rima e ce le ha raccontato l'inizio del libro di Cirese Cultura Egemonica e Cultura Subalterne che fa 40 anni quest'anno e quindi abbiamo almeno quei 40 anni e poi abbiamo anche quelli di Tomaseo abbiamo P3 che praticamente alla fine dell'ottocento fa una biblioteca gigantesca delle tradizioni popolari siciliane e con la prima mostra internazionale di etnografia a cui partecipa introduce nel mondo i saperi la capacità di costruire i carretti siciliani la pittura, le leggende, le memorie che ci sono dietro e poi la mostra del 1911 la legislazione nazionalista degli anni 30 che rilanciava gli artigianati i designer che abbiamo avuto negli anni 30 che hanno salvato interamente una tipologia di artigianato sardo con un istituto che poi è durato nel tempo la legge Franceschini purtroppo nel dopoguerra la direzione della nostra legislazione è andata sempre verso il bene materiale anche se l'implicazione della legge Franceschini era aventi valori di civiltà e quindi c'era un eccheggiamento dell'idea antropologica di cultura che però fino al codice dei beni culturali del paesaglio l'immateriale è rimasto fuori nella nostra storia c'è anche un dibattito su che diavolo è l'immateriale perché sapete che Alberto Cirese non lo voleva questo concetto perché è l'immateriale senza materialità lui diceva ma pensi che quando uno canta non sta facendo una cosa materiale non sono suoni, non fanno parte della fisica e lui invece diceva volatile era disposto a dire inoggettuale vedete che adesso si usa in Italia ogni tanto intangibile quindi ragioniamoci su ma quante parole si usano? adesso una cosa che ha fatto il duo Arantes-Valentina è usare immaterial in inglese che non si usa e quello è stato come un piccolo lapsus freudiano mettiamoci d'accordo su questi concetti ecco noi abbiamo una storia degli studi di tradizioni popolari almeno fino agli anni Ottanta che ha lavorato su queste pratiche su questi concetti sui cicli della vita il ciclo dell'anno abbiamo un tipo di legislazione abbiamo le schede FK del Museo di Arti e Tradizioni Popolari anche una storia infelice la nostra perché poi non è mai andata come dire verso una normativa la legislazione negli anni Settanta ci siamo litigati con la sinistra italiana che non ha mai preso in carico l'eredità dei suoi saperi tradizionali e così via e questo dobbiamo metterlo nel quadro della riflessione che noi facciamo credevo fosse facile usare il timer durante gli interventi ma si annera sempre quindi adesso 8.47 diciamo con questo tipo di spirito cioè portandoci la nostra esperienza perché se no dovremmo fare un dossier per la salvaguardia urgente dei nostri saperi perché qui sembra che si cominci sempre come non avessimo mai saputo nulla di questi mondi di cui si parla e purtroppo dobbiamo invece rivendicare possiamo entrare dentro il cambiamento dei concetti centrali perché i concetti che l'UNESCO ci ha abituato a considerare fondamentali fanno parte del nostro repertorio ma hanno bisogno di essere aggiornati anche il concetto di cultura perché ancora la cosa a cui somiglia di più la definizione dell'UNESCO è il concetto di cultura di Taylor e quindi noi ogni tanto ci troviamo stranamente a giocarci delle cose strane con questo concetto di cultura di tipo generalizzante ma in particolare riconoscere che la nozione di tradizione il dibattito che c'è stato negli anni Ottanta l'ha ridefinita in modo tale che dobbiamo togliere l'ambiguità che ha il concetto di tradizione nell'UNESCO cioè tradizione dopo tutto il dibattito Hobsbawm le tradizioni inventate i francesi la tradizione è qualcosa che si costruisce il fatto che i paesi che hanno più riconoscimento UNESCO sono la Cina il Giappone la Corea modernizzatori spaventosi ancora possiamo pensare che la tradizione e la comunità sono quelle contadine dell'Ottocento ma facciamo ridere allora questo concetto di tradizione usiamolo come un concetto implicitamente costruito che caratterizza i beni in una modalità complessa post globale il concetto di comunità perché è interessante per noi il fatto che i giuristi vogliono un po' interpolare le tradizioni giuridiche perché il concetto di comunità dell'UNESCO è un concetto in fieri loro preferiscono lavorare con indirizzi invece quello del Trattato di Faro è un concetto molto esplicito sostanzialmente dice una comunità patrimoniale è fatta da coloro che si mettono insieme e organizzano per salvare un bene quindi si capisce benissimo che la comunità è un costrutto contemporaneo non è una cosa che ha radici nella terra invece nella definizione d'UNESCO è ancora un po' ambiguo il concetto di comunità ogni tanto dopo aver fatto pensare che si tratti di una comunità ci picchia all'iPhone a una comunità che ha le radici nel sangue e nella terra poi dicono ma potrebbe anche non avere territorio e uno dice ma con il sangue e la terra non c'è più territorio e uno cerca di immaginarsi questa comunità che non ha territorio io ad esempio sto lavorando e penso sarà la mia ultima pratica etnografica sui poeti improvvisatori in Ottavarima che sono effettivamente una comunità che non ha territorio ha uno strano territorio a metà tra il mondo della cultura popolare e la letteratura però ha un mondo che ci aiuta a ridefinire anche che cos'è una comunità dal punto di vista UNESCO ad esempio nel caso dell'improvvisazione poetica per me la comunità si caratterizza per il pubblico degli esperti e la sua sfida nel passaggio alle nuove generazioni è di mantenere un pubblico di esperti perché un sapere performativo che non ha una sua comunità di esperti è facilissimo che si trasformi e può anche prendere delle direttive che sono positive poi alla fine ma sicuramente si altererà quel nesso tra performance e comunità che lo caratterizzava fortemente l'opera di Pupi ha dovuto affrontare una problematica di questo genere investire sul pubblico quando uno dice la trasmissione questo è un gigantesco tema trasmissione e trasformazione anche ieri i non antropologi questi temi li raccontano troppo alla leggera sembra che noi non ce ne siamo mai occupati insomma io trovo scandaloso che diciamo giuristi o professori di altre discipline che gestiscono il consiglio dell'UNESCO parlino di queste cose come se fossero dei grandi esperti della trasformazione e ci dicono quali sono i requisiti che si possono mettere per riconoscere ancora qualche cosa queste cose fanno parte del nostro mestiere dobbiamo poterle raccontare con la complessità di chi ha fatto l'esperienza dell'alterità ecco quindi la nozione di comunità va gestita con questa consapevolezza che si tratta di comunità del tempo di Facebook e quindi che hanno delle complessità che caratterizzano forme anche reticolari possono avere anche radicamenti ma sono costrutti che vengono prodotti nel tempo in uno spazio che è interessante recuperare che è quello della società civile che va inteso come lo spazio che aveva pensato Hegel e riletto Gramsci in sostanza della complessità che sa tra Stato e mondo della famiglia tra il pubblico per definizione e il privato e quindi lo spazio della vita quotidiana e delle associazioni che in questa in qualche modo si danno da fare per essere rappresentate e dove si producono le egemonie questo è un po' lo spazio della società civile che allarga il concetto di comunità e lo rende diciamo così più interessante da transitare l'altro grande tema per noi è la partecipazione e qui occorre anche un cambio forte da parte nostra perché nell'antropologia americana siamo capaci di chiamare l'informatore non so co-ricercatore o in francese partner d'anchette e così via però in sostanza noi lo interroghiamo facciamo il libro e poi lui si fa i fatti suoi ora diciamo così che la nozione di osservazione partecipante non si adatta più al nostro tipo di partecipazione a queste comunità noi possiamo fare gli esperti esterni e questo è diciamo un livello possiamo fare i mediatori possiamo fare gli attivatori di processi di consapevolezza possiamo fare i coproduttori dello stesso bene e quindi cambiano i nostri tipi di approcci e le nostre competenze debbono arricchirsi delle competenze della cooperazione internazionale della comunità internazionale che ha fatto questo tipo di cose quindi da un lato sul piano teorico dobbiamo liberarci del concetto di autenticità perché se la tradizione non è più quello che era una volta non esiste più il concetto di autenticità tutte sono autentiche perché sono promosse da persone che noi per principio consideriamo capaci di produrre cultura dobbiamo toglierci dai piedi la nozione di olismo che ha caratterizzato l'antropologia del passato proprio perché la nozione di olismo è legata a una cultura è un territorio a una complessità imbricata e noi invece spesso produciamo connessioni tra mondi slabrati che hanno livelli si è parlato questa mattina di geometrie bizzarre della comunità e dobbiamo lavorare dentro questo tipo di pratiche il consenso e formato non è abbastanza da chiamare partecipazione il consenso e formato è un'altra cosa lo fanno le ditte farmaceutiche che vogliono conoscere se gli abitanti di Sesto Fiorentino sono disposti a farsi fare un prelevo di sangue per un progetto del DNA vi sembra un grande grado di partecipazione diciamo così che è il minimo per non considerare come dire teletrasportato oppure imposto un certo progetto quindi dobbiamo lavorare anche a concetti di partecipazione di coproduzione che siano un pochino più complessi di quelli ai quali siamo abituati non è che manchino le esperienze perché oggi quando si parlava degli inventari informati gli inventari stanno tra il repertorio e l'accreditamento e su questo piano il repertorio se vi guardate ancora Cirese parte B di cultura e le moniche e culture subaltene cos'è un repertorio lì è chiarissimo è che noi nei nostri studi abbiamo perso sistematicità c'è da fare una critica al mondo dei demoliti italiani io per primo naturalmente che non hanno prodotto sistematicità invece l'accreditamento è stato fatto dai musei la regione lombardia è stata la prima anche lì e quindi la nozione di accreditamento ci aiuta a pensare l'inventario perché tutti si possono accreditare poi l'accreditamento ha dei limiti che non sono di natura qualitativa sono di natura politico-istituzionale perché se uno dice io voglio essere riconosciuto ma il museo non lo apro mai la regione ha ragione di dirgli a te non ti riconosciamo e allora devono essere di questo criterio oggettivo i limiti però il modello è grossomodo lo stesso e la regione Lombardia ha una pratica importante che abbiamo visto anche in queste giornate che ci può fare da punto di riferimento ecco quindi a mio avviso un po' rivedendo questi concetti classici dell'antropologia e restituendoli in questa modalità noi entrando nell'UNESCO cambiamo noi stessi e cerchiamo anche di cambiare le pratiche partecipate nell'UNESCO investendoci di più sulle nozioni di comunità e di partecipazione che se voi andate a vedere diciamo così i requisiti di tutti gli ICH che sono stati riconosciuti non sempre sono molto chiari e non sempre sono trasparenti quindi restituire l'idea in sostanza di un UNESCO come spazio della democrazia voce delle minoranze che resistono alla modernizzazione coscienza del valore della diversità secondo me mette conto ma dentro un processo di memoria di noi stessi di riconoscimento pubblico del nostro mestiere e di nascita di un'antropologia più aperta a queste cose che abbia anche tra i suoi compiti l'etnografia delle nuove comunità che nascono attraverso le pratiche UNESCO e questo è il pezzo su cui Sandra pensava di intervenire io ho accennato ai poeti improvvisatori Sandra sta monitorando altre esperienze quindi adesso le do la parola per continuare questo discorso Grazie Pietro di avermi lasciato perché gli avevo chiesto di mantenere un po' più di tempo mi sarei ristretta un po' io e cercherò di farlo comunque ricavando alcuni punti dell'intervento che ci siamo scambiati con Pietro e parlava di comunità Pietro parlava di tornare a studiare a capire a comprendere parole che suonano familiari ma che sono reinterpretate sotto i nostri occhi a partire dalle attività di nuovi protagonismi che Vincenzo Padiglione in un libro del 2008 ha messo bene in evidenza come nel patrimonio ormai ci sono altri attori che contano almeno quanto a volte più degli antropologi delle istituzioni insomma a partire dai piccoli collezionisti italiani fino soprattutto alle comunità indigene che hanno scatenato insomma più o meno in rapporto con gli stati nazionali domande di restituzione per esempio del patrimonio come le comunità indigene australiane vuol dire questi attori probabilmente come di nuovo citando Renata Meazza insomma questo per me è stato un punto di vista interessante questo di dire che la legge fa seguito a qualcosa che è già successo si potrebbe immaginare la convenzione di Faro come qualcosa che ha recepito le attività di questi nuovi soggetti di politiche culturali quindi cosa fa l'antropologo si interroga sul nuovo modo in cui questi concetti si collegano o meno con una storia degli studi e poi si attacca con tutte le sue forze con tutte le forze possibili come posso fare etnografia in un momento come questo di cosa posso fare etnografia perché è da lì che poi cerchiamo sempre di ripartire per poter di nuovo poi tornare ai concetti e crediamo che insomma l'etnografia delle comunità prima ancora che della partecipazione forse sia un punto da dove cominciare attorno agli stessi processi attorno alla stessa inventariazione ma soprattutto a partire dai musei che insomma in queste dei nostri piccoli musei che in queste comunità insistono e che quindi hanno più agevolmente accesso quasi quotidiano alle dinamiche di queste comunità e volevo solo portare come dire più che degli esempi perché ci vorrebbe troppo tempo delle esperienze più o meno lunghe che ho avuto io di appunto di lavori di ricerca attorno a eventi rituali e quindi alle comunità che facevano che li generavano che erano autori e attori di questi eventi rituali nel Lazio e nella Basilicata più recentemente vorrei soprattutto portare all'attenzione quello che sembra fino adesso almeno nella mia esperienza uno dei delle costanti che queste comunità sembrano avere in comune le comunità mi riferisco proprio alle comunità che agiscono in questi momenti concentrati in particolare nelle feste ho lavorato sulle comunità che girano intorno alle feste che quindi si producono e a volte vivono soltanto durante la festa e innanzitutto in genere non è una quindi sono delle comunità una festa un evento rituale in genere mi sembra possa addirittura ipotizzarsi che un evento rituale così importante metta in scena l'intero come dire aggregato di comunità diverse che insistono su un territorio e la seconda caratteristica è una forte conflittualità una conflittualità che però è ritualizzata quindi non voglio fare il punto dell'impossibilità della partecipazione come una comunità che è abbastanza diffusa e quindi dell'impossibilità di collaborare come una comunità perché la comunità è complessa perché la comunità è conflittuale perché le comunità non vanno d'accordo fra di loro ma mi sembra che in molti casi etnografici la conflittualità che queste comunità interne ad uno stesso territorio più comunità patrimoniali che insistono sullo stesso patrimonio abbiano come dire un sistema di ritualizzazione di queste conflittualità che è in realtà o può essere gran parte dei motivi di vitalità del patrimonio stesso come dire che queste basti pensare noi siamo abituati appunto in etnografia soprattutto noi donne a pensare sempre insomma se non altro la differenza di genere quindi ci sono delle feste dei riti molto maschili ci sono delle feste dei riti molto femminili e le prospettive della comunità come minimo si dividono in due in molti casi quindi la prospettiva di chi partecipa nel caso di un rito maschile e di chi non partecipa ma che comunque c'è e fa parte della stessa comunità e credo quindi che potrebbe essere un escamotage utile e una prospettiva costruttiva sia per chi valorizza il patrimonio quindi eventi di valorizzazione come le schedature e anche i musei sia mettere magari questo tipo di confettualità ritualizzate presenti al centro della valorizzazione del bene quindi la polifonia la multivocalità che potrebbe sembrare un problema e che spesso lo è perché non siamo abituati ad avere una scheda un numero di identificazione che però comprende un mosaico forse come dire valorizzando invece proprio nel conflitto nella compresenza di voci e mettendolo di nuovo a disposizione del pubblico saremmo capaci di creare un nuovo oggetto di nuovo che però ponga un dialogo sociale all'interno di un'istituzione all'interno di un dibattito in maniera altrettanto pubblica quindi conflitti più o meno ritualizzati e come dire semplici come ad esempio tra generazioni o tra generi che sono appunto permanenti in qualche modo nella società ma anche conflitti portati da differenze culturali per esempio e molti di questi riti comunque cercano di incorporare in qualche modo gli elementi che erano alieni alla comunità ci sono delle pratiche di integrazione di figure culturali diverse e su questo c'è un esempio che secondo me è emblematico è un museo svedese il museo di Gothenburg che faceva era abituato adesso insomma pare che stia chiudendo purtroppo abituato a porre appunto un'esposizione un conflitto un motivo di conflitto che si può fare su un oggetto rituale che è segreto e quindi secondo alcune comunità non va mostrate o che più che porre una soluzione identificare un bene descriverlo spiegarlo pone diverse prospettive attorno allo stesso bene questo penso che sia anche un approccio abbastanza diffuso anche in America Latina questa idea di avere didascalie multiple allo stesso bene che forse può aiutarci insomma può essere uno dei contributi che noi antropologi possiamo dare anche alla lettura del patrimonio come qualcosa di dinamico come qualcosa che non è staccato da quello che facciamo la domenica quando andiamo a messa se ci andiamo insomma che siamo noi che viviamo di patrimonio immateriale e qui concluderei un po' così di brutalmente grazie grazie